salve a tutti ragazzi sono sempre il vostro arbi 82 e partiamo con una nuova recensione quest'oggi ragazzi ritorniamo a parlare di meat cloth revival e questa volta il turno della bellissima tetis la sirena oppure mermind tetis in originale come vedete ragazzi questa è la sua confezione classica di meat cloth in primo piano c'è la nostra fantastica figure di tetis bellissima ed elegantissima qui più piccolo vediamo il suo totem a forma di sirena vedete proprio sullo scoglio qui come sempre ta machination bandai qui vediamo il suo segno eccolo qui marmine scala qui dietro vediamo la nostra tetis in varie pose fighe eccola qui il suo object object e tre visi intercambiabili qui sempre la nostra sirena bellissima andate qui e niente ragazzi miei tetis chi era tetis tetis era la più fedele al dio dei mari e la sua totale fedeltà poseidone la portava ad essere molto così dice molto sfrontata con i cavalieri di atena che logicamente per lei erano visti come una minaccia per il loro sì per il suo signore avete capito ma non perdiamo tempo ragazzi miei adesso apriamo questa fantastica confezione vediamo un po il suo contenuto contenuto tolto dalla sua confezione e vediamo un blister alla volta allora il primo blister si presenta con la nostra figure di tetis eccola qui bellissima con la sua diciamo suo corpo bianco ci sono due visi intercambiabili c'è la pettorina eccola qui ci sono i due coprispalla c'è l'elmo i due copri braccio c'è il cinturone vedete ci sono i due copricoscia i due bracciali gli schinieri con le ginocchiere credo ci sono due paia di placchette per i dorsi delle mani e queste sono le ginocchiere eccolo qui fantastico vediamo il secondo blister eccolo qui che c'è il suo totem della sirena qui c'è ci sono delle un seno intercambiabile eccolo qui due ciuffi nei capelli intercambiabili altri ciuffi di capelli qui c'è lo scoglio che funge da supporto per il totem per la sirene della sirena e ci sono un due tre e quattro paia di mani intercambiabili dove c'è anche questo paio di mani a palmo di stelo diciamo senza armatura che sono veramente belle 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 eccolo qui questo sono i suoi due blister che escono dalla confezione e poi c'è il mitico libretto illustrativo ma non perdiamo tempo e adesso vediamo un po il totem della sirena come si presenta 1 2 3 eccomi ritornato ragazzi totem montato e guardate qui ragazzi che spettacolo guardate qui questo totem della sirena è veramente veramente strepitoso se questa sirena appoggiata sul suo scoglio eccolo qui ragazzi fantastica veramente meraviglioso questo totem amici miei mi sa che io la esporrò proprio così a mo di totem questa armatura perché è veramente uno spettacolo molto semplice da montare e boh guardate qui veramente magnifico ora faccio vedere un po più da vicino sperando che non si smonti niente eccolo qui ragazzi che non si smonti niente si focalizza eccolo qua strepitoso questo totem della sirena veramente magnifica non c'è proprio nulla da dire sono rimasto veramente folgorato dalla bellezza di questo totem ed eccolo qui e adesso tra pochi secondi vediamo il cavaliere nella sua bellezza la nostra tetis tra un po' farà la sua apparizione 3 2 1 eccomi qui ragazzi abbiamo montato l'armatura addosso al personaggio ed eccola qui amici miei bellissima ragazzi devo dire che la stabilità è proprio quasi pari a zero eh mi devo dire per metterle in questa posa così darci che i piedini molto piccoli ragazzi è molto 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 instabile c'è bisogno proprio di un supporto per questo meat clot cose che io non ho e proprio per questo io la metterò in vetrina a forma di totem che poi mi piace anche di più sinceramente come ho detto prima e poi devo dire che questi copriginocchio qua non è che mi facciano tanto impazzire perché saltano molto facilmente essendo due pezzi staccati sia ginocchiera che schiniero però io poi ho deciso di metterla con questo viso che guarda lateralmente ragazzi con questo sorrisino eccolo qui ragazzi è fantastica guardate qui bellissima non c'è proprio niente da dire a livello di bellezza è veramente strepitosa la nostra tetis eccola qui questa armatura in questo colore rosso tendente al al rosa scuro nell'anima mi sembra che era un po' più chiara l'armatura ecco qui per mettergli l'elmo io ho sostituito questi ciuffi di capelli proprio per fatti apposta per essere indossati con l'armatura eccola qui bellissima la nostra tetis la sirena cavaliere fedelissimo al suo signore degli abissi è proprio instabile ed ho paura pure che cada a terra ed eccola qui ragazzi bellissima e niente ragazzi sono giunto alla fine di questa breve video recensione vi volevo far vedere anche quest'altro romit che ho in collezione e come sempre vi invito a iscrivere al mio canale arbi82 lasciate un like se vi è piaciuto il video cliccate la campanella se volete rimanere aggiornati per i prossimi video che farò lasciate un commento fatemi sapere se anche voi abbastanza abbastanza instabile e se questi questi due ginocchieri anche voi non è che vi di garbano fatemi sapere questa cosa qui e niente un saluto da arbi82 e dalla bellissima tetis arbi82 arbi82 grazie grazie